Sono partito. Eccomi, buongiorno a tutti, Tullio Miscoria. Oggi il tema del nostro incontro formativo è come conquistare nuovi clienti. Un tema estremamente attuale, tant'è vero che la partecipazione è quanto mai attenta e entusiasta perché è un aspetto sfidante e avere le idee chiare è il modo migliore per arrivare velocemente ad un risultato in modo semplice ed efficace.